Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato a Destiny 2. Oggi voglio parlarvi di alcuni interessanti leak che sono usciti a seguito dell'importante annuncio di Bungie riguardo l'anno 2 di Destiny 2. Per chi non lo sapesse, infatti Bungie ha annunciato che il giorno 5 giugno, martedì prossimo, alle ore 18 italiane, si terrà una streaming di presentazione proprio sull'anno 2 di Destiny 2, con tutte le novità che dovrebbero arrivare insieme a questa espansione. Per ora sappiamo solo che avrà a che fare con l'attollo, vista l'immagine che Bungie ha postato in cui campeggia proprio i rottami violacei dell'attollo, ma ovviamente in rete sono già circolate interessanti leak riguardo la trama, riguardo in generale lo svolgimento di questo DLC. Di cosa parlerebbe questo DLC? Ovviamente parlerebbe degli insonni e si chiamerebbe però Summoning of the Nine, cioè l'evocazione dei nove. Oltre a parlare quindi appunto degli sonni di Uldren e di Mara, si parlerebbe dei nove. Uldren sarebbe un nostro alleato, diciamo così, che vorrebbe salvare sua sorella, sfruttando un esercito caluto che sappiamo essersi creato, per, diciamo così, salvarla dai nove. Se vuole salvare Mara dai nove. La zona d'ambientazione sarebbe l'attollo, insieme a una zona chiamata The Void, il vuoto, perché gli avversari, i nemici, sarebbero i Nestareth, le schiere di demoni del vuoto, di creature spettrali del vuoto, evocate da Nezarek, che ovviamente, come in ogni leak che si rispetti, torna a fare capolino. Io mi fido poco di questa menzione di Nezarek, perché viene fuori ogni DLC, però, vabbè, teniamola intanto presente. Nezarek, appunto, sarebbe uno dei nove, il decimo, diciamo così, che è stato ripudiato dai nove, e che adesso sta portando avanti una guerra contro i suoi nemici, ossia i nove, e vuole impadronirsi dell'attollo, ma anche delle nostre territorie. Ci sarebbe poi un nuovo Raid, che si chiamerebbe la Tomba dell'Eternità, in cui si affronterebbe proprio Nezarek. Diciamo, Uldren rimarrebbe poi in una posizione di confine tra amico e nemico, ma di Uldren ne parlerò nel dettaglio nel prossimo video, che fatalità avevo programmato, ma magari sarà già superato, vedremo se questi leak si rivelassero veri. Ci sarebbero poi 10 missioni storia, 4 assalti, 2 nuove destinazioni, la tollo, appunto, e questo void, e questo vuoto, una nuova modalità cooperativa, nota come la corte, che sarebbe una nuova tipo di attività PvE, proprio mai visto in Destiny, quindi una semplice prigione, ma qualcosa di un po' più elaborato, e poi, vabbè, che l'espansione verrà appunto rivelata nel dettaglio martedì prossimo. Ovviamente, ragazzi, si tratta di leak da prendere totalmente con le pinze, sia alla vicenda, appunto, di questo Nezarek come grande avversario, che, ripeto, era già stato leakato per la seconda espansione, quella, una mente bellica, salvo poi rivelarsi assolutamente vuoto. Il ruolo di Uldren è più probabile, appunto, spero che il video che ho preparato non sia già obsoleto, comunque, la figura di Uldren, secondo me, verrà assolutamente sfruttata. Il ritorno della regina è tutt'altro che improbabile. Quindi, diciamo, cosa penso di questi leak? Leak, secondo me, è Nezarek, la parte di Nezarek, dei demoni del vuoto, è un po' azzardata e la ritengo poco plausibile. Non a scarto priori, ma la ritengo poco plausibile. La parte di Uldren e la regione, invece, la ritengo abbastanza probabile. Idem, il ritorno, magari, di Variks e comunque la presenza massiccia di caduti. Senza dimenticare questa nuova modalità che viene, in qualche modo, anticipata in questi leak, ma che è tanto tempo che si vocifera. Sembra, quindi, probabile che, con questa espansione, assisteremo all'introduzione di una nuova modalità PvE innovativa, non mai vista in Destiny. Quindi, questa potrebbe essere vera, anzi, secondo me, è assolutamente vera. Non ci resta che attendere martedì, sperando che Bungie si sveli qualcosa. Io credo ancora più che altro nell'arrivo di Savatun, in realtà. Nezarek lo tirano fuori ogni 3x2, quindi mi sembro un pochino improbabile. Però, insomma, perché no? Vedremo cosa ci si aspetta. L'unica cosa, appunto, che mi lascia perplesso è che questi rumor riciclano alcuni rumor già emersi, quindi la cosa mi fa un po' storcere il naso. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se secondo voi avremo veramente il piacere di affrontare Nezarek, se invece, in realtà, affronteremo Savatun. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Sicuramente farò un video recap lore dopo la streaming di martedì prossimo. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook Lorenzo Divus e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!